Ciao, io sono Mario e ho due anni. Ho scoperto di avere una malattia genetica rarissima, che nel mondo conta circa altri 30 casi. Si tratta della sindrome Chops. Ho già subito due interventi al cuore e la mia vita non è semplice come dovrebbe essere la vita di un bimbo di due anni. Non cammino e non parlo. Ho bisogno costanti di ossigeno e dell'aiuto dei apparecchi alla respirazione. Ma come vedete, ho un sorriso straordinario. Mamma e papà hanno organizzato una raccolta fondi da destinare alla ricerca di una cura per me e per i bambini che hanno la mia stessa malattia. Vogliono cercare di donarmi un futuro migliore. Per questo però serve l'aiuto di tutti. Farlo è molto semplice. Basta collegarsi online su gofundme.com, un aiuto per Mario. Basta poco, anche un piccolo contributo può aiutarci a dare una speranza a tutti noi. Grazie, Mario. Grazie. 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 Grazie.